7.000 migranti sbarcati a Lampedusa in un giorno è tanta roba, centinaia e centinaia di barchini arrivati come mai prima con quelli che dicevano che con loro invece i migranti non sarebbero mai più partiti dalle coste del Nord Africa e fin qui siamo a un dato oggettivo della propaganda schifosa di questi signori del blocco navale. Ma non è finita qua perché c'è anche la parte ridicola della faccenda perché Salvini alla domanda come mai ha risposto che c'è una regia? Bella domanda, non lo so, non sono dall'altra parte, non sono in regia e sono convinto che ci sia una pianificazione, una regia. Ma io lo so di cosa sta parlando Salvini che non vuole dire sono gli alieni, quelli che hanno fatto vedere la città del Messico, gli alieni per Salvini probabilmente sono loro i colpivoli di questa invasione.